Secondo i dati diffusi dal CNR, il Consiglio Nazionale della Ricerca, l'Abruzzo si colloca tra i primi posti in Italia per il gioco d'azzardo. Per dare una dimensione del fenomeno, basti pensare che nel solo 2022 sono stati raccolti in tutta la regione con i gratta e vinci, le diverse lotterie, il bingo ed i giochi di carte e casino online, oltre 3 milioni e 600 mila euro. L'Abruzzo si connota dal punto di vista della raccolta, ovvero dei soldi investiti nel gioco d'azzardo ai piani alti della classifica. Per quanto riguarda la raccolta su rete fisica è la prima regione in Italia, per quella telematica siamo sempre nelle prime 10. Quindi la raccolta pro capite, sia per il gioco fisico che per il gioco online, in Abruzzo è particolarmente alta rispetto a quella che è la media nazionale. Quindi a fronte dei 136 miliardi di euro che in Italia sono stati spesi per giocare dai nostri concittadini, diciamo che l'Abruzzo ha partecipato in maniera importante. Tra i dati diffusi dal CNR emerge un elemento di curiosità. Abbiamo trovato un piccolo paese dell'Interland della regione Abruzzo, Scurcula Marsicana, dove il gioco pro capite è oltre i 13 mila euro a persona. Per contrastare i disturbi da gioco d'azzardo patologico e le altre dipendenze, il Dipartimento Sanità della regione Abruzzo ha predisposto e finanziato il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025. Dottoressa, quali campanelli di allarme e un consiglio ad un genitore? Quando è che deve iniziare a preoccuparsi? Allora, innanzitutto, secondo me la cosa importante è la solitudine, il ritiro sociale. Ecco, quando ci sono i cambiamenti nella vita dei ragazzi, fare attenzione, prestare attenzione. Purtroppo quello che per noi è la normalità, tante volte per noi è semplice, magari lasciare il ragazzo con il suo smartphone piuttosto che un qualsiasi device. Passiamo più tempo con loro, cerchiamo di utilizzare quegli strumenti con loro. Obiettivo del Piano è stato detto, comprendere le dimensioni del fenomeno, prevenire le diverse forme di dipendenza da gioco e concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire la ludopatia.